Presentata a Palazzo delle Marche, la pellicola Neve, girata a Treie nell'entroterra maceratese. Una storia di famiglia per curare il bullismo, che arriverà anche nelle scuole con la Polizia di Stato. Tra i protagonisti, Riccioni, che firma anche la regia, e l'undicenne, Azzurra Lopipero, di Fermo. Allora, questo film parla di una famiglia, il rapporto genitori-figli, di questa bambina, che è la nostra protagonista, che, ahimè, viene bullizzata per delle vicende che le capitano nella sua famiglia. La sua famiglia è composta da due persone basta, quindi c'è Marta, la mamma, e lei. E poi si dipana tutta questa storia, per quale motivo? Perché questa bambina è molto appassionata del teatro e troverà un amico in questo ragazzo, che è il mio personaggio, che è Leonardo, in scena. E quindi si incontreranno così, per una passione comune. Le Marche che ruolo avranno in questo film? Le Marche per me, come al solito, sono protagoniste nei miei film. Questo ormai è il sesto film che giro nelle Marche. Sono marchigiano, anche se sono nato in Africa, cresciuto lì per otto anni, però i miei genitori sono di Castelremondo e di Corridonia, quindi la voglia è quella di continuare sempre nelle Marche a produrre. Ho anche altri film che dovremo produrre a breve. Quindi le Marche, come al solito, sono protagoniste, in questo caso Treia, Sefro, Sarnano, Macerata. Abbiamo veramente dei luoghi meravigliosi Civitanova che abbiamo toccato in questo film e che vedrete, perché ci sono veramente dei panorami incredibili. Grazie. 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 Grazie.